Chiaramente in maniera sistematica e significativa da parte degli enti locali del territorio, a partire dalla regione Liguria, per questo il comune di Ciello, la provincia di Savona, il comune di Varazzo, la fondazione dei Mari. Diciamo che lo gioco, lo giro di questa manifestazione, dal punto di vista delle risorse, sono loro, a loro vanno per ringraziamento, unitamente per molti sponsor privati. La maggior parte avversano tutte le quote, ma sono molto importanti per noi, anche per le tutte le quote. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione